Allora, buongiorno da ItaliaZulu4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega Oggi niente sota, niente pota, niente diploma laghe italiani Sono di manutenzione qua su, località Viglini, presso il monte Molinatico E appena ho finito, accendo la radio, che giustamente mi sono portata dietro Oltre ai ferri di lavoro E appena ho finito, accendo la radio how and often Grazie a tutti. 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 Allora, seguendo la solita regola, prima l'antenna, poi il microfono e per ultimo l'alimentazione. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Ti ringrazio, scusa per prima la maleducazione. Qui Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP, QSL. 5, Napoli, Perugia al chilometro. Ciao, Sandro, spero che tu ti ha posto. Il nome qui, Umberto, l'abbiamo già fatto precedentemente, tra noi praticamente 400, un attimo, sì, 407, 407 chilometri. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, da prima ti sentavo un po' più forte, ma dipendo un po' del QSB, adesso verso l'ordine di 5-5, con l'antenna puntata verso la zona 5, che è la stessa. La dimute lo stesso per te, Sandro. 4 VQS 50TK, dai. Guarda, ti ringrazio, sono... Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. India, Zulu 4, try again. India, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, India, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Roger, Roger, Gary. My name is Alessandro, my name is Alessandro. Your report is 5-8-5-9, 5-8-5-9, QSL. Thank you, Alessandro. Nice to hear you. You are 4-5-2 here. Here's the return for you team. Thank you for the 5-8-5-9, QSL. Thank you. This is the return for you team. Look at the same. This is the return for you team. This is the return for you team. Grazie a tutti.